È stato approvato un emendamento al DL 71 per quanto riguarda i prossimi concorsi scuola. Le novità sono molto importanti. Il punteggio sufficiente per superare la prova scritta sarà sempre di 70 centesimi, ma ci sarà uno sbarramento, uno sbarramento importante. Non tutti coloro che avranno superato la prova scritta con punteggio sufficiente potranno dover partecipare all'orale. Gli ammessi all'orale saranno pari al triplo dei posti disponibili per quella regione per la specifica classe di concorso o tipologia di posto. Quindi effettivamente 70 centesimi è il punteggio sufficiente, ma non sarà necessariamente abbastanza per passare all'orale. Vi dico subito cosa ne penso a partire dai dati del concorso che si sta svolgendo in questo momento, concorso in cui sono passati all'orale l'87% dei candidati in media. Penso che un concorso dovrebbe valutare le persone sulla base di quello che sanno ed è già molto molto limitante il tipo di valutazione che si fa durante un concorso scuola. Attuare una modalità del genere dando un limite di ammissione all'orale non lo trovo assolutamente equo. È chiaramente una manovra correttiva rispetto al fatto che questo concorso era tarato male allo scritto e sta portando a dei tempi biblici per il suo espletamento. Forse basterebbe tarare meglio le domande per lo scritto in modo da aggiungere quel pizzico di difficoltà in più che permetta una scrematura, ma sempre sulla base delle competenze dei candidati e non sulla base di uno sbarramento che viene da chissà dove. Ovviamente ditemi voi cosa ne pensate nei commenti e condividete questo reel con tutte le persone a cui potrebbe essere utile.